Vabbè, zi, le sfide sono finite. No, non è vero. Cosa c'è ancora? È il defibrillatore, zi. Ah, non pensavo. Eh beh, eh beh. Anche se questa, essendome la autoimposta, non mi riuscirà mai. Eh, sì. No, lo compino! L'ho accorgito, ma non l'ho ucciso. Poi non mi ricordo, era a potenza, lo devo tenerselo, lo devo tenere premuto qua per uccidere. Eh, non lo so, sul 3, sì. Non mi ricordo. Mmh, mi sono. Mi sa che sì. No, zi, non vale così. No! No, no! No! Sì.